Termina 1-1 il derby tra Bitonto e Brindisi. La formazione bianca-azzurra sfiora il colpaccio sul campo della capolista che riesce a pareggiare nella ripresa conquistando un punto che le permette di mantenere la vetta della classifica. Parte bene la formazione brindisina nel primo tempo al tredicesimo punizione dalla distanza di Marino, deviazione di Figliola. Al diciassettesimo tiro, cross di Patierno dalla destra, smanaccia, pizzolato. Al venticinquesimo riparte il Brindisi con maglie e il tiro parato dal numero 1 Bitontino. Al trentotesimo sblocca il risultato con un gran tiro Ancora che lascia immobile il numero 1 di casa. Ci prova ancora l'attaccante brindisino al quarantaduesimo, punizione di Ancora, devia Figliola. Nella ripresa il Bitonto subito alla ricerca del pareggio, dopo 60 secondi girata di Patierno, sfera alta sulla traversa. Al decimo il pareggio sul calcio di rigore tra le proteste dei calciatori brindisini. Queste le immagini. Dal dischetto si presenta Patierno che batte pizzolato e rimette in equilibrio le sorti dell'incontro. Cinque minuti più tardi il Brindisi resta anche in dieci uomini per l'espulsione di Capone. Al sedicesimo ci prova ancora Patierno, pizzolato in due tempi, salva il risultato. Al ventinovesimo ci prova anche Marsili, devia ancora il numero 1 brindisino. La formazione ospite stringe i denti, chiude gli spazi. Il Bitonto ci prova in pieno recupero. Ultima occasione al quarantanovesimo, colpo di testa di Patierno, sfera che termina sul fondo. E con essa le speranze di vittoria della formazione di casa. Un punto che muove la classifica di entrambe le formazioni. Il Bitonto mantiene la vetta. Il Brindisi un risultato che fa morale in vista della lotta salvezza.